Cari amici e cari amici, benvenuti in questo nuovo video, benvenuto anche nuovi iscritti Pino De Marinis e Alessandro Guli, spero di aver detto giusto il cognome. Rimanendo ancora sul tema della grottesca uscita di Amato del 2 settembre e sulla sua successiva immediata smentita del 5 settembre, Amato sicuramente è stato un emolo di Cossiga, perché anche Cossiga fece ritromarcia ai suoi tempi smettendo quello che aveva raccontato in tv e questo se ne può trovare traccia in un famoso video che si trova su youtube. Della sua retromarcia pochi sono a conoscenza, infatti molti di quelli che fondano la loro convinzione che ci fu una battaglia aerea si riferiscono proprio alle dichiarazioni di Cossiga che in quell'intervista disse che era stato un missile francese e che il pilota che l'aveva lanciato si suicidò, sono entrambe due fake news comunque. Riferite all'attendibilità delle sue dichiarazioni e del suo famoso missile risonanza, in descrizione a questo video trovate due comunicati dell'agenzia di stampa ANSA, uno del 26 gennaio 2007 e l'altro del 3 giugno 2009, con le dichiarazioni ufficiali rese in quelle date da Cossiga. Per brevità adesso vi leggo la seconda nota di agenzia, quella del 3 giugno. Non ho mai affermato di sapere che fu l'aereo di una potenza mica ed alleata ad abbattere per errore l'aereo di Tavia nei cieli di Ustica. A me è stato detto dall'allora capo del sismi l'ammiraglio Martini, chiuso il virgolettato, è quanto puntualizza il senatore a vita Francesco Cossiga. Segue la data, il 3 giugno 2009 e l'orario le 16.55. Infatti vi faccio notare che dà subito la colpa all'ammiraglio Martini che gli ha riferito, perché lui non ne sapeva niente e quello che ha detto l'ha solo ripetuto, un po' da scaricabarile insomma. Molti anni dopo anche Giuliano Abato si diverte a fare e disfare, accusando i francesi in prima pagina e poi smentendo. Una breve parentesi, faccio notare che Cossiga Amato prendono di mira i francesi, mentre il FU Purgatori ci presenta gli americani nella parte dei cattivi, quando intervista nel 2017 il timoniere della Saratoga, certo Brian Sandlin, cioè uno dei timonieri della Saratoga, e ce lo presenta come testimone chiave. In realtà più che di un testimone chiave, quella di Purgatori si è datata di una chiavata presentata come scoop, uno scoop ottimo esempio di totale disinformazione, essendo già stato accertato da ben 18 anni che la Saratoga da Napoli non si era mossa manco di un centimetro. Chiudiamo la parentesi, ma volevo anche farvi notare un'altra piccolezza, dettaglio, vedete il serbatoio? Questo è un A7, un Corsair. Bene, il serbatoio famoso che è stato trovato era un serbatoio che poteva essere attaccato precisamente su due tipi di aereo. Uno era l'A4 e l'altro è questo tipo di aereo. Entrambi aerei che non erano utilizzati per compiti di intercettamento. Domandiamoci per quale motivo Amato sia uscito con la sua sparata trovando complicemente pronta la Repubblica a pubblicargliela, è abbastanza chiaro. Prospettandosi la concreta possibilità che il fascicolo per strage venga archiviato e quindi non se ne parli più, il potentato di interessi che si è originato sulla scia della strage diustica sta tentando di fare pressioni sulla procura romana utilizzando l'arma o mai collaudata in tanti anni e dimostratasi sempre efficace sull'opinione pubblica, la suggestione mediatica, la stessa che ha già avuto effetto sui giudici civili. Invece voglio farvi vedere meglio l'articolo. Meloni, parole importanti, ora servono i dettagli, questo nell'immediato, e giorno dopo ecco i dettagli di Amato. Non so nulla, questo ci fa anche venire da ridere, ma in realtà ci sarebbe da vergognarsi. Allora, tornando al discorso della suggestione mediatica e di questa strategia che è stata attuata con l'uscita appunto di Amato. È una strategia a lungo termine per mettere la procura di fronte al dilemma, archiviare e quindi subire l'immediato attacco del potentato che l'accuserebbe di essere il muro di gomma, ribadendo quindi il concetto dello stato mertoso e complice, oppure non archiviare, alimentando però nuovamente, per un futuro indefinibile, le solite manfrine delle richieste dirogatorie da mandare ai francesi o e agli americani, perché questi non ci raccontano la verità. Una via d'uscita, la procura di Roma l'avrebbe, dichiarare chiaramente che l'aereo è caduto a caso in una bomba. Che sia stata una bomba non è una novità a certi livelli, ma lo sarebbe per moltissimi italiani che stanno aspettando di sapere cosa è successo. La novità sarà soprattutto nel momento in cui verrà scritto dai vari giornali, tipo Corriere della Sera, Repubblica, Il Tempo, Resto del Carlino e anche tutti gli altri, che la strage di Ustica è stata causata da una bomba, ma senza essere riusciti a individuare l'autore materiale, essendo passato troppo tempo, perso seguendo delle piste fuorvianti. Qui vi faccio notare sempre il serbatoio, questa volta è attaccato sotto il Viking, che era un altro aereo che poteva trasportare quel tipo di serbatoio. In questo caso però, come dicevo prima, il tipo di serbatoio trovato poteva essere attaccato soltanto sulla A4 e sulla A7, questo perché aveva una diversa forma delle alette posteriori che qui vi faccio notare in questo serbatoio su questo aereo, sono disposte in questo modo. Allora, per quanto riguarda individuare l'autore materiale, come dicevo prima, sarà molto difficile, direi anche impossibile, però dai documenti che andranno al vaglio degli storici, già lo sono, si potrà perlomeno capire il perché e anche, forse, il mandante. Intanto, i procuratori romani hanno intelligentemente evitato di convocare Amato dopo le sue sparate, probabilmente considerandola la stregua di un mitomane in cerca di dell'altra celebrità. Qualcuno infatti si ricorderà del suo prelievo nottetempo dalle tasche degli italiani, avvenuto diversi anni fa quando era al governo. Come detto prima, la mossa di cui Amato è una pedina più consapevole che non, non è stata fatta a caso e serve a preparare il terreno per altre iniziative nel caso avvenisse disposta l'archiviazione del fascicolo, che va anche detto, non ha fatto nessun progresso dal giorno della sua intitolazione alla strage di Justica. Non sono state richieste nuove perizie sul relitto, nulla è stato fatto che potesse ribaltare i risultati delle precedenti perizie, che hanno già escluso tutte le possibili cause, eccetto quella di una bomba a bordo. Vi do appuntamento quindi al prossimo video.